Il mio nome è Peter Joseph, vivo a Brooklyn, New York, ho 31 anni. Sono un regista indipendente e suppongo il fondatore di fatto di un'organizzazione chiamata del Zeitgeist Movement. Per quanto riguarda il mio passato, sono nato in quella che considero essere una famiglia della classe media. Mio padre è stato un impiegato delle poste, ora è in pensione, e mia madre era un'impiegata dei servizi sociali, anche lei è in pensione. In effetti, molte delle mie attitudini ai temi sociali penso che possano venire dalle esperienze che ho avuto ascoltando le storie provenienti da mia madre. Ho iniziato ad interessarmi alla musica a circa 9 anni. Mi sembrava di essere innamorato delle percussioni e dei tamburi e del ritmo. Sono stato molto fortunato ad essere accettato in una scuola del North Carolina, in pratica una scuola d'arte, in un'università, che mi ha permesso di crescere con un'educazione molto diversa rispetto a quella normalmente impartita in una cittadina rurale in una regione nel sud. Sono stato esposto a molte culture diverse, e a molti interessi diversi, a molte cose che non si troverebbero in un liceo tipico, diciamo, del sud. Sono entrato in contatto con una grande varietà di persone, e in particolare con persone artistiche e creative, che credo che abbiano lasciato su di me un'impronta e una tendenza artistica che ancora oggi si perpetua. Musiche e percussioni sono radicati direttamente nella mia identità. La gente mi dice, beh sai, tu lavori con questa organizzazione sociale, ma comunque sei solo un musicista. C'è la tendenza al credenzialismo, che si presenta spesso con chiunque parli delle questioni di cui si parla nel movimento o di cui si è parlato nel film, e ne possiamo parlare un po' anche dopo, se vuoi. Però quello che vorrei dire è che ora considero la musica come una forma di meditazione. È uno sfogo, mantiene il mio equilibrio. Così continuo a praticarla in modo personale. Non è che esco così tanto per esibirmi in pubblico, ormai. Non ne ho più il tempo. Dopo il mio secondo anno di college, ho abbandonato definitivamente gli studi, perché con il debito che stavo maturando non valeva la pena continuare. Già allora sapevo che c'era qualcosa di sbagliato nell'andare a scuola maturando per gli studi una quantità assurda di debito, dagli 80 ai 100 mila dollari, per essere gettato nel mondo del lavoro in una posizione di servitù contrattuale, se volete, dovendo così automaticamente andare tutto a se stesso al sistema perché sei già così tanto economicamente indebitato. Il mio interesse iniziale era quello di essere un marimbista solista classico. Un concetto ridicolo, quando ci ripenso ora. Ma in fondo tutti noi abbiamo i nostri attacchi di ingenuità da giovani. Una volta che la strada della la musica è diventata difficile per me da perseguire, ho cominciato a interessarmi di video e montaggio. E ho trovato molti lavori occasionali a New York, facendo vari montaggi come libero professionista, riprendendo con le telecamere, facendo qualunque cosa legata al lavoro, sui video e sui film. Sei costretto a fare solo ciò che ti ripaga denaro. In questa società non ho potuto davvero trovare l'opportunità per fare i soldi nella musica. Così sono finito nel settore della pubblicità. Mi ha sempre dato fastidio dipendere da persone e capi che mi dicono cosa fare nel mondo del lavoro. E non mi piaceva la pubblicità. Non mi piace la manipolazione della percezione delle persone, in modo che le aziende possano vendere facilmente le loro schifezze. Così ho iniziato a perseguire i lavori in ambito finanziario. Ho iniziato facendo day trading e pattern trading. Ho avuto un discreto successo. Non ho mai avuto una grande base di capitale, che devi davvero avere per farlo. Ho anticipato con successo qualche cambiamento del mercato e ho continuato a farlo occasionalmente per molti, molti anni. Ora non lo faccio più perché disprezzo il sistema di mercato. Il mio modo di giustificarlo era che fosse l'unico lavoro a cui avessi pensato e che non avesse un capo o un cliente, quindi per me rappresentava libertà. Certo, la negoziazione sul mercato azionario non ha alcuna rilevanza sociale, non dà alcun contributo alla società. Potresti far saltare Wall Street domani e non cambierebbe nessuna dannata cosa per ciò che riguarda l'ordine naturale degli eventi su questo pianeta. Così in quella fase della mia vita volevo solo una via d'uscita. Avrei voluto non avere mai più a che fare con l'essere uno schiavo del sistema aziendale corporativo. Comunque è stato in quel momento che ho iniziato a studiare l'economia. Sono sicuro che avrai altre domande, quindi mi fermo qui. Zeitgeist è iniziato come una rappresentazione dal vivo, un approccio al concetto di spettacolo di varietà. Quello che ho fatto è stato installare due schermi giganti e avevo un immenso set di percorsioni al centro dove mi esibivo, con i video che erano su due schermi. Alcuni strumenti che vedete alle mie spalle sono stati usati in quello spettacolo. In realtà ho venduto la maggior parte di quell'attrezzatura, ma in ogni caso penso di avere conservato alcune foto che posso mostrarvi. E purtroppo sono state scattate pochissime foto, che ci crediate o no. Sarebbe stata una buona idea documentare con un video l'evento originale perché la gente continua a chiederlo, ma ho solo fotografie. Comunque è iniziato come un lavoro creativo, una variazione su un iniziale approccio al varietà, film e musica dal vivo, performance dal vivo. Era uno spettacolo gratuito. L'ho riproposto per sei notti, mi sembra. E la gente veniva. L'ho pubblicizzato come un matto. Ho speso migliaia e migliaia di dollari. L'ho fatto soprattutto perché ero bloccato nella realtà professionale e volevo solo qualche cosa per me stesso, per farmi sentire meglio, in un mondo che va a rotoli, in sostanza. Un mondo che viene dominato dalla finanza, un mondo che è malato e distorto, attraverso processi e oligarchie finanziari. Era solo un'espressione, in realtà un'espressione molto arrabbiata. Non mi sarei mai aspettato che venisse fuori quello che è stato. Per niente. Dopo che finì mi ritrovai semplicemente un po' più indebitato. Feci un lavoro per cui tra l'altro non ero nemmeno autorizzato con i diritti d'autore. Non avevo chiaro nessuno di quegli aspetti. Ma dal momento che internet è quello che è, lo lanciai online per vedere cosa sarebbe successo. Forse qualcuno sarebbe piaciuto, le avrebbe scaricato, avrei avuto qualche feedback. Quello che accade mi sconvolse. L'ho pubblicato su un sito web e da lì è partita una reazione a catena. Sì, insomma, tutta la storia da quel punto in poi non riuscirei nemmeno a dirvi come si è svolta. Tutto quello che so è che ho avuto sentore che stava ricevendo un'enorme quantità di visite e che se ne stava parlando molto, così ho creato un sito web per questo. Zeitgeistmovie.com e l'ho messo in condivisione gratuita. Poi ho capito che la gente lo voleva su DVD. Mi sono detto, ok, penso di poter provare a farlo. Mi sono ritrovato nella posizione molto difficile di chiedere l'autorizzazione a tutti i partecipanti coinvolti. Difficile perché tutti videro la possibilità di fare soldi. Perché era un film che su internet stava già ricevendo milioni di visite. Così dovete pagare un sacco di soldi a un certo numero di persone per poterlo pubblicare. Ma c'erano anche persone che erano semplicemente felici di vedere queste informazioni a disposizione e che non hanno creato alcun problema a quello che stavo facendo. Alla fine è stata una distribuzione non commerciale. Un DVD a solo 5 dollari, poco più di 3 euro, distribuito in grande quantità. A quel punto ho ricevuto una mail da un'organizzazione chiamata Artivist Film Festival e con il mio stupore ho voluto mostrare il film del loro festival, il quale era gremito di spettatori, tutto esaurito. In questa fase ero ancora del tutto sconcertato. Questa stessa organizzazione mostrerò l'anno seguente anche il mio secondo film, Addendum. In un mondo dove i media sono spesso utilizzati per mantenerci disinformati più di ogni altra cosa, per quanto riguarda la mia opinione, ho spesso detto l'arte senza coscienza è insignificante e credo che l'azione senza coscienza sia futile. Quindi penso che sia importante avere un festival che rappresenti questo tipo di idee. Per quanto riguarda il film stesso, credo che tutto ciò che possa veramente dire è che l'intero senso del film sia che la gente comincia a capire le cause fondamentali alla radice di tutti questi problemi che vediamo nella società. Questo è un quadro generale di quello che è successo. Creare il movimento Zeitgeist è stata una scelta molto difficile per me. Avrei potuto fare Zeitgeist Addendum come hanno fatto altri registi socialmente consapevoli, nel senso che avrei potuto solo dire, oh bene, ecco un po' di roba, ecco un po' di problemi. Ehi, ecco qualche possibile soluzione. Prendi quello che vuoi, vai avanti con quello e guarda che succede. Ero indeciso se inserire la fine del film unitevi al movimento thezeitgeistmovement.com. E sei, vai su thezeitgeistmovement.com e aiutaci a creare il più grande movimento di massa per il cambiamento sociale che il mondo abbia mai visto. Sapevo che da quel momento in poi sarebbe diventato qualcosa di più che un solo fenomeno cinematografico, che la mia vita sarebbe cambiata drammaticamente, cosa che poi è successa. Zeitgeist Addendum ha suscitato molte domande nella gente che mi ha scritto email del tipo, cosa facciamo riguardo tutti questi problemi culturali? Cosa facciamo riguardo il sistema bancario corrotto? Cosa facciamo riguardo la gente che è rinchiusa in programmi sociali stabiliti? Considero i flussi di pensiero e la mente come fossero un programma. Considero la società stessa come un programma in esecuzione. E la programmazione rinchiude la gente in uno specifico quadro di riferimento. Come risolviamo questi problemi? Come facciamo? E Zeitgeist Addendum è stato un tentativo di rispondere a queste domande. Dopo la diffusione del primo film, Zeitgeist The Movie, questo è finito nelle mani di Jacques e Roxanne. E dopo aver letto il libro di Jacques e che mi inviarono, mi resi conto che lì erano racchiuse informazioni molto importanti. Mi resi conto che persino io ero poco informato su molti problemi e come correggerli. E per fare in modo che la società si rimetta in riga, dobbiamo pensare ai problemi fondamentali. Questo era qualcosa che stavo provando a fare in parte, di cui avevo nozione. Ma fu solo quando incontrai Jacques fresco che le lenti furono messe a fuoco. Era come se tutte queste cose di cui avevo un sentore, l'esperienza di Jacques, l'esperienza di vita, ciò di cui abbiamo parlato così a lungo, mi avessero fatto convergere nella giusta direzione. Così fece un'intera sezione del film con lui in Zeitgeist Addendum. Ed è così che iniziò tutto. Chiunque scelga di sfidare lo status quo, le prospettive tradizionali del mondo e del sistema in cui viviamo, si espone ad attacchi vementi, ad attacchi energici. Sono ben consapevoli di questo. Se riguardi alla storia di chiunque abbia scelto di sfidare lo status quo, trovi storie molto buie. C'è un gran numero di persone là fuori che sa che qualcosa è sbagliato. Ma non capiscono la fonte di questa scorrettezza, perché sono nella scatola dell'indottrinamento. Socrate. Socrate non speculo mai sulla schiavitù che esisteva ai suoi tempi. Era la normalità per lui. Questo è valido per tutti i tipi di filosofi e politici che siano mai esistiti, che questi sia Karl Marx che sia Platone. Sono tutti rinchiusi in un paradigma stabilito e i loro processi mentali possono arrivare solo fino ai propri limiti. E questo include probabilmente anche me stesso. La gente è rinchiusa in una scatola. Vedono la scatola attorno a loro. Vedono le falle, i buchi e le crepe. Vanno verso le crepe e provano a ripararle. Provano a mettere una pezza sui buchi. Ma non si fermano a pensare che forse c'è qualcosa di sbagliato proprio nella scatola stessa. Forse sarà l'integrità della scatola nella quale esistono che è intrinsecamente sbagliata, intrinsecamente vuota. Il sistema economico in cui viviamo è un paradigma parassita che non farà altro che portarci all'autodistruzione. Ma la gente non lo vede. Quindi si attacca il sistema economico per quello che realmente è. Alla gente si accappona la pelle. Tutti dicono, in fondo questo è il mondo in cui viviamo tutti. Viviamo in un mondo basato sul profitto, sullo scambio lavoro-reddito, sul consumo ciclico. Questo è ciò a cui siamo abituati. È normale avere una divisione in varie classi. Sai, si giustificano con la natura umana. Buttano dentro qualunque cosa per fare credere che questo abbia origine dall'ordine naturale delle cose. Quando in effetti non è così. Sai, penso che se dovessi elencare gli attacchi che tipicamente sono rivolti a me e alle persone con cui lavoro, il primo sarebbe il credenzialismo. Il credenzialismo è una notazione per le sacerdozie di coloro che sanno. Ora, ricordate questa è una sfumatura importante. Ovviamente non andrò da un dottore, se posso, che non ha titoli di studio in chirurgia, di cui potrei aver bisogno. Sono necessari istruzioni ed esperienze per farlo. Ma quando si analizzano le cose in astratto, quando si arriva alla semplice analisi delle informazioni, quando si arriva all'analisi della storia, quando si arriva all'economia, si deduce che è un sistema artificioso. E non si basa sul nulla nei funzionamenti generici. Non è basato sulle leggi della fisica. Non è basato sulla legge scientifica che è in relazione al funzionamento planetario. Poi, improvvisamente, diventa molto rilevante speculare su quanto significano queste cose per la società. È una lama a doppio taglio. Quando prendi master, lauree e dottorati, pensa a quello che stai realmente facendo. Stai percorrendo un percorso formativo che è stato completamente prestabilito per te dalle istituzioni che esistevano a priori. Quando si arriva alle materie sociali, che hanno una grande variabilità soggettiva, ti perdi in effetti l'oggettività, in quel senso. Perché sei letteralmente indottrinato nelle credenze che ti sono state presentate. Per prendere una laurea in economia, che probabilmente è la cosa più inutile che tu possa fare, dovrai prima essere completamente indottrinato nell'idea che quello che stai studiando è realmente una scienza che ha davvero una qualche tipo di rilevanza per qualcosa. Così, quando ricevo email dai dottori in economia che cerchiano di ridimensionare ciò di cui parlo, diventa abbastanza chiaro per me che la ragione per cui hanno queste obiezioni è in realtà emotiva. Non è un aspetto oggettivo. Sono giunti ad avere un'identità di loro stessi per via del loro sistema di credenze a cui sono legati. E per come la vedo, portargli via questo, ridimensionare le loro idee sull'economia, significa privarli della loro identità. È facile argomentare che alcune delle più grandi menti che hanno contribuito con alcune delle più grandi invenzioni al nostro mondo sono arrivate da istituzioni al di fuori dell'establishment. Hanno lavorato da sé. Hanno studiato per conto proprio. Hanno guidato la loro direzione di informazione. Non si sono semplicemente seduti in un'aula e appreso meccanicamente le informazioni, facendo i processi passo a passo come orientati dallo status quo, prendendo alla fine la loro laurea e dicendo, hey, ora sono un esperto in questo campo. Le menti più formidabili e i contributi più straordinari arrivano da quelli che si trovano fuori dalla scatola. Non c'è nemmeno bisogno di fare esempi per questo. Quindi, tornando al discorso di prima, quando si arriva alla teoria sociale, per così dire, non do alcun peso al cardenzialismo. Il sistema accademico è un danno per l'avanzamento del progresso sociale. Un altro tipo di attacco arriva dalla sfumatura culturale, dalla programmazione sociale. Quelli che noi chiamiamo i guardiani dello status quo. Sono persone che soffrono nel sistema come tutti gli altri, ma la cui identità sociale è così forte che sono così saldamente rinchiusi nella scatola, che trovano irritante pensare che quello che stanno vivendo è in realtà sbagliato, paradossalmente. Lo si vede continuamente. I guardiani dello status quo sono generati dalla religione, sono generati dall'economia, sono generati dall'illusione della democrazia che vediamo oggi nel mondo, generati dai vari ismi che sono completamente privi di senso, capitalismo, comunismo, fascismo, socialismo. Abbiamo i sacerdoti del sistema monetario, i capitalisti se vuoi. Puoi usare questa retorica, non uso quella parola, è priva di significato. La parola che uso è monetarismo. Il pretesto per l'acquisizione di denaro è basato sul vantaggio differenziale che è basato sulla disonestà. Punto. Poi ci sono i sacerdoti dei concetti religiosi, dell'identificazione religiosa, che è l'idea in qualche modo che già sappiamo tutto e che c'è un Dio e che ci sta guardando dall'alto, controllando tutto. Non parlerò neanche dei paradossi che derivano da questa nozione estremamente stretta. Quindi, in altre parole, il più grande sostegno dell'evoluzione del pensiero umano sta spezzando il tuo indottrinamento. È molto, molto difficile sopraffare gli elementi emozionali che sono divenuti così radicati in te. Questo ti causa come prima reazione una sofferenza ed un dolore che interferisce con tutto questo. Dobbiamo imparare a spezzare. Scusate. Dobbiamo imparare ad identificare, spezzare l'indottrinamento se ci aspettiamo di progredire in qualche modo come civiltà. Il mio nome è stato omesso perché volevo proteggere i miei amici e la mia famiglia dall'associazione. La gente mi dice, beh, dovresti venire allo scoperto se vuoi parlare di queste cose, allora devi essere preparato ad affrontare tutto quello a cui ti sei esposto. Aggiungeva un'email che mi criticava per non aver reso pubblico il mio cognome. Pensai tra meme, sai cosa? Quello che stai dicendo, chiunque lo dica, sta in realtà dicendo che Martin Luther King o che i Gandhi meritano di morire per essersi resi celebri. Ho ricevuto molte minacce di morte dalla comunità religiosa. Viviamo in una comunità fottuta. La società è mentalmente malata. Essere normale significa essere incasinati in questa cultura. Quindi il mio nome è Peter Joseph. A che punto la mia identità diventa assolutamente trasparente? Dovrei dare alla gente il mio numero di previdenza sociale? Dovrei dargli la mia dichiarazione dei redditi? La storia è piena di gente, è divenuta famosa per un nome o un soprannome senza che nessuno fosse al corrente del vero cognome. Accade spesso che le persone usino un soprannome. Quelli che ce l'hanno con me, per le cose di cui parlo, cercano qualunque pretesto possibile per far sembrare che io stia nascondendo qualcosa o che abbia secondi fini. C'è da aspettarselo. Ma sai, non importa. Non significa nulla per me e la gente mi può chiamare come vuole. Interagisco continuamente esponendomi al pubblico. Non ho nulla da nascondere. E anche se qualcuno scoprissi la mia vera identità, dove vivo, chi sono i miei genitori, chi sono tutti i miei amici, non cambierà niente. La disgraziata realtà è che mi è stato dato un titolo controverso. E la gente con un'educazione tradizionale ha molti contrasti con me. E non mi piace vedere la gente soffrire per quello che faccio. Ma molti dei miei amici e la mia famiglia sono consapevoli di questo e lo accettano. Quindi questo è qualcosa che semplicemente affronto. Chiunque pensi che io faccia quello che faccio per notorietà o ragioni monetarie o qualunque cosa associata con l'interesse personale ha molto da imparare. Prima di tutto io gestisco il sito del movimento e il movimento stesso a mie spese. Pago le persone per fare e programmare cose. Ho molti volontari a cui sono molto grato. Ma per fare le cose velocemente, molto spesso devo assumere dei professionisti. Vendo una maglietta per farlo. È l'unica cosa che vendo, che è disegnata per il movimento. Per quanto riguarda le vendite dei DVD, se la gente non può rispettare il fatto che faccio pagare 5 dollari per un DVD che potrebbe costarne anche 20, spendo una gran quantità di soldi per fare questi film. Le vendite di DVD sono ovviamente parte del mio reddito. Sottolineo che non lo faccio per profitto, nel senso che i soldi vengono assegnati ad altri progetti. Ed è così. Ho dovuto bloccare la vendita di lotti perché le persone compravano i dischi da me in blocco a circa 2 dollari per rivenderli a 20 dollari su internet. È molto, molto frustrante. Mi sono danneggiato molto finanzieriamente per via di questo. Hai tutte queste organizzazioni sociali che riescono a ricevere milioni di dollari di denaro grazie alle loro numerose donazioni. Vendono tonnellate di schifezze. Improvvisamente veniamo attaccati perché vendiamo qualcosa, quando però è il nostro interesse eliminare il paradigma monetario. Mi dispiace. Dobbiamo fare qualcosa per sopravvivere. Solo per essere chiari, lo Zeitgeist Movement si basa sul rendere libera l'informazione, rendo disponibile tutti i miei film gratuitamente, permettendo di scaricarli dalla rete. Chiunque voglia aiutarmi, mi aiuta comprando un DVD a 5 dollari. Quando potrei farlo pagare 20 dollari? Ma io non lo pubblicizzo. Continuerò a lavorare privatamente nel settore delle pubblicità o qualsiasi altra cosa debba fare per mantenermi, mantenendo l'integrità del movimento stesso e seguendo la strada del non lucro. L'unico momento in cui chiederemo donazioni per il movimento sarà quando avremo un grande progetto che avrà bisogno di avanzare. Ma per ora non abbiamo progetti di questo genere. Siamo in un periodo di raccolta di persone e razionalizzazione delle funzionalità. Se studi economia, te la presentano come se fosse una scienza. Ho letto la maggior parte di quello che i laureandi e gli specializzanti della Harvard University leggerebbero per la loro laurea in economia. L'economia non è una scienza. È un'invenzione. È un espediente. È divertente. Guardi i libri economia e hanno grafici, diagrammi, fanno equazioni complesse. È tutto artificioso. Non ha alcuna relazione con l'ordine naturale delle cose. L'economia è finalizzata solo alla produzione e alla distribuzione. L'abbiamo posta su una struttura solida che la rende apparentemente valida. Non c'è niente di cui abbiamo bisogno nel sapere dell'economia, a parte il fatto che l'intero sistema economico globale è basato sul consumo costante della gente. A prescindere dallo stato delle cose, negli ordini naturali di energia, materiali planetari e tutto il resto. È solo cieco, meschino consumo, senza il minimo rispetto per l'ambiente. Dobbiamo comprendere che siamo tutti scienziati e dobbiamo iniziare a pensare alle cose in maniera scientifica, cose che molti di noi già fanno, ma fino a un certo limite. Persino chi ha una mentalità religiosa usa la scienza quando valuta l'acquisto di un'automobile o quando valuta la propria vita in generale. Usano queste cose costantemente. Lo facciamo tutti, siamo tutti scienziati. Questa è la scoperta. La scienza non è una cosa fredda e senza cuore. È ciò che ci ha dato tutto, incluso il nostro benessere. Ora, possiamo criticare la filosofia per quanto mi riguarda. Qualunque forma di filosofia, qualunque forma di nozione di moralità, è assolutamente insignificante, a meno che non germogli dal mondo naturale, usando quello che io considero essere l'analisi, nota come metodo scientifico. Sono solo annoiato a morte dalle attitudini filosofiche e dalla retorica, che non fanno assolutamente nulla. La religione è retorica. Una delle più vecchie truffe del sistema dell'ordine precostituito è la diffusione della religione, così che si possa percepirla come qualcosa di positivo. Mentre soffre questa perpetua costante evoluzione oligarchica che è emersa, credo che la società dei cacciatori raccoglitori, dopo aver raggiunto il culmine dell'agricoltura, abbia cominciato ad alterare tutto. Abbiamo creato la stratificazione sociale. Abbiamo iniziato a controllare l'ambiente. Prima della rivoluzione neolitica, è stato ben documentato dagli antropologi, c'era un equilibrio naturale col pianeta. La popolazione era in equilibrio perché potevamo fare solo quello che la terra ci offriva naturalmente. Quando invece abbiamo iniziato a controllare la natura, prima nell'agricoltura e poi via via anche in altri ambiti, abbiamo iniziato a creare uno squilibrio. Abbiamo iniziato a creare forniture diseguali. Abbiamo iniziato a creare scarsità deliberatamente per motivi di autopreservazione e profitto. Così mentre la società diventava sempre più sbilanciata, mentre emergeva il concetto di proprietà, mentre i grandi pirati iniziavano ad attraversare gli oceani, portando con sé beni in diversi continenti, in diversi regni, si creavano strutture di potere e di risorse. Certi strumenti venivano usati per controllare l'umanità, per soggiogare coloro che non meritavano il diritto alla vita o premiare quanti ne meritavano i frutti. Per mantenere la stratificazione gli erano dati vari strumenti per soggiogarli. La religione è uno dei più antichi strumenti per soggiogare le masse. Ora comunque non voglio dire che sia questa l'origine da cui nasce la religione, questo è tutt'altro argomento, se vuoi parlarne. È illustrato in un capitolo del mio film. Sto semplicemente parlando dell'uso politico della religione, che prosegue a tutt'oggi. Quante volte hai sentito dire dal Presidente degli Stati Uniti, Dio benedica l'America, che cosa offensiva e insultante da dire al popolo americano. Prima di tutto è offensivo per ogni paese del mondo. Perché Dio benedica solo l'America? Se Dio ci fosse, benedirebbe l'intero pianeta in una società sana. Comunque non affronterò questo argomento. La religione per me ha due facce. Una faccia è il dogma, ovvero l'indottrinamento. Hai resurrezioni o cose di questo tipo, insomma le nozioni fantasiose, che si trovano nei libri esistenti. Dall'altro lato c'è una brillante disposizione filosofica. Io alla fine amo molte cose che il personaggio di Gesù ha detto. Vedo nozioni bellissime in quasi tutte le maggiori figure religiose. Ci sono valori comprovanti dal tempo che esistono nel pensiero religioso, che hanno bisogno di essere rispettati. Alcune delle persone più brillanti belle che io abbia incontrato sono in effetti cristiani o islamici o hindù o ebrei. Sanno dove tracciare la linea, dove fermarsi al fanatismo. Perché questo è il pericolo a cui ci porta la religione. Una volta che credi in qualcosa abbastanza dogmaticamente, da dire Gesù è esistito, è così. Chiunque dica altrimenti è un mio nemico. Allora in quel caso hai qualche seria nevrosi da curare. Che Gesù sia esistito o meno non significa nulla. Io credo che Jack Fresco l'abbia dipinto al meglio da Larry King. Quando Larry King gli ha chiesto cosa pensi della cristianità, penso che sia grandiosa. Quando è che la metteranno in pratica? Quindi la mia posizione è quella di auspicare per chi ha inclinazioni religiosi, di scavare a fondo nei loro credi e chiedersi cosa c'è nella religione che mettono davvero in pratica. Quale nozione di reciprocità che puoi trovare in tutte le religioni vedi realmente materializzarsi nel comportamento della maggior parte delle persone. La regola d'oro è composta da tutte quelle idee che accomunano tutte le religioni, di cui penso abbiamo fatto una lista nel pdf della guida di orientamento dello Zeitgeist Movement. Se rivedi queste idee, dicevo, nessuno le mette in pratica. Alla fine la mia attitudine sulla religione è molto, molto semplice. Non è nient'altro che un cumulo di storie. Sono allegorie con un significato. Vengono distorte dall'interpretazione perché questa è la natura della semantica. Ma non voglio escludere la religione. Non penso che la religione vada resa illegale o nulla del genere. Penso che vada compresa per ciò che è. Il problema dell'umanità è che siamo danneggiati. Ci sono decisamente troppe ideologie nel mondo che non hanno alcuna base tangibile. Voglio essere molto chiaro. In tutte le religioni ortodosse, almeno nelle religioni occidentali, ci possono essere alcuni elementi di induismo e buddismo che rappresentano delle vere eccezioni. Dico semplicemente che il sistema di credo giudeo-cristiano-islamico per me non è diverso dagli ismi di associazioni statali che abbiamo visto nella sfera politica, parlando di comunismo, socialismo, fascismo, capitalismo. Queste sono idee che sono state create e non hanno nessuna rilevanza per la natura in nessun modo. In altre parole, non hanno assolutamente rilevanza sul sistema portante della Terra, sulla nostra capacità di sostentarci, sulla nostra abilità di produrre, sui metodi di produzione, su quelli di distribuzione, sul modo in cui orientiamo la società per mantenerci in vita e mantenerci sani e prosperare e per il miglioramento di quello che io considero l'organismo della specie umana, come un singolo organismo. Nessuno di questi credi ha nulla a che vedere con questo insieme e ciò per me è un problema. Per esempio, la Chiesa Cattolica e molte altre religioni che si nutrono di queste antiche ideologie del Vecchio Testamento promuovono questa illusione che possiamo semplicemente procreare costantemente e tutto andrà bene. Dio si prenderà cura di tutti noi. In questo momento, col futuro dell'energia, per come la usiamo, per il modo in cui stiamo orientando la nostra esistenza su questo pianeta, non ho alcuna intenzione di fare figli. Quando provo ad essere quanto più ottimistico possibile con lo Zeitgeist Movement e ciò che potremmo fare, ed è fenomenale quello che potremmo fare, per ora abbiamo dei grandi ostacoli. Non farò alcun figlio. Perché? Perché dico questo? Prima di tutto non mi sentirei a mio agio. Mi sentirei negligente e irresponsabile in questo momento ad aggiungere un altro essere umano su questo pianeta. La maggior parte delle persone, quando fanno un figlio, è per egonismo, tradizionalismo, una nozione fermata per cui avremo dei figli e una famiglia. E al diavolo la capacità portante della Terra. Al diavolo il fatto che potremmo essere impoveriti. Voglio dire che vedi questo nei campi di roulotte. Ho vissuto in un campo di roulotte. Ho visto questo innumerevoli volte. La gente lì non ha per nulla relazioni. Non esiste un'educazione riguardante quello che permette alle società di funzionare, riguardo i processi che le nutrono. Così continuano ad avere figli, ancora, 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 e fare molte, molte cose che non hanno relazioni con nulla. Ma concentriamoci sull'aspetto dei bambini. Per me fare un figlio significa... Io credo che il mondo resterà in buono stato per la durata della vita di mio figlio. E poi, continuando, e cosa succede se mio figlio a sua volta ha un altro figlio? Il mondo dovrebbe avere l'integrità per mantenere la stabilità anche di quel bambino. Questa è la domanda. Questo è quello che i genitori dovrebbero chiedersi. Non dovrebbero avere figli per i loro bisogni egoistici, così che possano avere una famiglia, rispettare una tradizione, farsi vedere in chiesa e avere i loro due figli. devono relazionarsi con qualcosa di reale. L'umanità deve iniziare a pensare riguardo le sue relazioni con la Terra. Finché non lo fa, siamo fottutamente condannati. Abbiamo creato una struttura economica, una struttura filosofico-religiosa, che è assolutamente separata da tutto ciò che è tangibile e reale. E queste ideologie saranno quelle che distruggeranno la specie umana e distruggeranno il pianeta. È diventato un'industria florida quella che vende libri e DVD che screditano e gettano fango su Zeitgeist. Ci sono proprietari di siti web che usano pubblicità e sponsor solo per fare soldi. Trovo l'intera questione solo divertente, francamente. Zeitgeist the Movie è basata su informazioni preesistenti. Non c'è una sola cosa in quel film che non provenga da una fonte certificata. L'aspetto più trattato dai detrattori è la sezione che parla della religione. La religione comparata. Non è un mistero, se ne è parlato per decenni e secoli. Le religioni hanno copiato l'una dall'altra. Le religioni devono copiarsi l'una dall'altra. Perché? Perché tutte le informazioni sono seriali. Tutta la conoscenza è seriale. è illogico pensare che qualunque informazione di qualunque religione sia originale. E questo è il bello, infatti. Quando si traccia la fonte delle religioni più affermate, perché tutte si riferiscono alla natura. Si riferiscono tutte all'idea primordiale del naturale di spiegarsi della natura. La tempesta, il sole, ovviamente. Non è nulla di metafisico, nulla di esoterico. È solo assolutamente ovvio. È un mistero che il sole sia stato idolatrato come fonte di vita. è un mistero tutto ciò. Certo che no. In questo momento, stiamo esaurendo il petrolio. Finiremo con l'esaurire il gas naturale. In realtà, semplicemente, finiremo tutti i combustibili fossili, che sono la forza motrice della nostra società. La nostra intera società è completamente basata sui combustibili fossili, a partire dalla plastica. Tutto. Non voglio neanche entrare nel merito. Chiunque mette in discussione questo, pensi per un momento a quello a cui il petrolio dà energia. Quello a cui i combustibili fossili ti danno energia, dalle luci che usiamo tutti, dalle centrali elettriche a carbone o a gas, a quello che muove la tua macchina, a tutto quello che include la cività industriale e combustibile fossile. E lo stiamo dimostrabilmente usando a un ritmo decisamente oltre la sua rinnovabilità, che richiede centinaia di milioni di anni. Nessuno ci sta pensando. Nessuno ci sta pensando perché il paradigma economico non lo consente. È il valore principale della nostra società occidentale oggi. Voglio dire, in America, il valore centrale motivante non è altro che il cieco consumo. I sabati sono per lo shopping, ho sentito dire a qualcuno una volta. Sei, c'è una ragione se ho usato Times Square in Zeitgeist Addendum. Come rumore, se ricordi, c'è molto rumore in quelle scene, perché Times Square è la quintessenza dello spreco assoluto, gli anfratti più disgustosi dell'umanità. Rumore materialistico. L'umanità non può sopravvivere in un paradigma che richiede la crescita infinita e ciò su cui è basato. Se non ti suona familiare, pensaci un attimo. Tutto ciò che facciamo è comprare e consumare e consumare e consumare. Questo fa andare l'economia. Se la gente smettesse di comprare, il PIL di tutti i paesi scenderebbe. Più compriamo, consumiamo e sprechiamo le nostre risorse. Più velocemente ci estingueremo. Che fare? Come fermare tutto ciò? Questo è il motivo per cui il Zeitgeist esiste. Dobbiamo per prima cosa acquisire una disposizione filosofica che dica, sai cosa? Siamo tutti nella stessa barca. Sopravviviamo tutti su questo pianeta. Affrontiamo tremendi problemi e l'unico modo perché vengano risolti è iniziare a lavorare insieme. Tutti hanno bisogno di sbarazzarsi di idee religiose e sbarazzarsi dei loro costrutti capitalisti, socialisti, fascisti e comunisti. Hanno bisogno di sbarazzarsi di tutto ciò che gli è stato insegnato e porsi una semplice domanda. Di che cazzo abbiamo bisogno per continuare la nostra sopravvivenza su questo pianeta senza orrori e guerre? È il protrarsi degli schemi di tutte le cose che continuano ad accadere. Sai, lo Zeitgeist Movement, per come è stato definito in tutti i nostri materiali, è, cito, il braccio attivista del Venus Project per promuovere quella che chiamiamo un'economia basata sulle risorse. Un'economia basata sulle risorse è molto semplice. È semplicemente un sistema che è strutturato in un approccio sistemico. Per spiegare l'approccio sistemico, tutto quello che devi fare è guardare il pianeta stesso. Il pianeta è un sistema olistico, quindi il primo passo è molto, molto semplice. Lo riconosciamo come sistema e lo trattiamo come tale. Dobbiamo iniziare a misurare e monitorare tutte le risorse terrestri. Non possiamo essere così stupidi da dare alle corporazioni la possibilità di controllarle, per il miglioramento della loro stretta cerchia. Risorse sulle quali noi tutti dovremmo avere un intrinseco, intrinseco, eh. Tutte le risorse su questo pianeta dovrebbero essere patrimonio comune di tutti gli esseri umani. Non c'è nessun altro modo di creare una società stabile. Quindi, tu nascendo su questo pianeta, erediti il pianeta. Il pianeta è la tua casa. Non qualche appezzamento di terra che hai l'illusione di procedere. Non qualche casa che tu pensi essere tua. Non esiste nessuna cosa come la proprietà. L'idea di proprietà è restrizione controllata. La proprietà è semplicemente lì per coloro che sono in cima, per fare in modo che nessuno possa interferire col fatto che controllano tutto. Quindi dobbiamo monitorare le risorse del pianeta. Dobbiamo iniziare a costruire un sistema di produzione e distribuzione che non sia basato sui capricci del profitto, che sia basato su ciò che è il mezzo più efficiente di farlo. Ci sono risorse che sono su tutto il pianeta, ovviamente. Dobbiamo iniziare a capire ciò che abbiamo. Dobbiamo usare la scienza e la tecnologia per iniziare a orientare il nostro uso delle risorse nel modo più efficace possibile. Questa è la ragione per cui promuoviamo l'approccio di sistema che usiamo. Se indirizziamo le risorse, proprio ora per cambiare il volto della Terra, possiamo farlo molto, molto rapidamente. Il problema è rappresentato dalle ortodossie affermate e i meccanismi di autopreservazione che esistono e che causeranno la nostra morte. Il libero mercato è ciò che sta uccidendo il pianeta. Non è proprio un libero mercato. In realtà è un sistema monetario. L'acquisizione e lo scambio monetario attraverso il lavoro per il reddito e la motivazione del profitto sarà ciò che distruggerà l'umanità, perché tutto ciò che fa è spingere ogni cosa nella direzione di coloro che detengono più potere. Proprio ora affrontiamo un collasso ecologico, un collasso energetico specificatamente. Affrontiamo un collasso economico che è legato al collasso energetico. Affrontiamo un collasso della manodopera che è ovviamente legato al collasso economico. E affrontiamo quello che chiamo fusione criminale. Sta avvenendo la disgregazione della società. La gente dice, beh, faremo qualcosa per ripristinare l'economia. La cosa più pericolosa che possiamo avere adesso è un recupero dell'economia americana. La cosa più pericolosa che possiamo avere adesso è l'uso di più risorse, perché tutto questo accelererà l'inevitabile distruzione. Se molta gente comprasse tante nuove automobili per aiutare l'economia, farà finire più carburanti nei serbatoi, carburante preso dalle risorse del pianeta. Più energia sarà quindi sprecata secondando l'idea di consumo. E questo è, lo ripeto, ciò che ci ucciderà. Quindi un'economia basata sulle risorse cerca di rimuovere tutte le pratiche insostenibili che abbiamo e crea un sistema olistico per la gestione delle risorse, la gestione delle priorità e la gestione della manodopera umana. Pensa quanto tempo viene sprecato nella vita della maggior parte delle persone in lavori che non producono assolutamente nulla. Pensa quanta energia viene sprecata per esempio da qualcuno che lavora a Wall Street, guidando in macchina dalla Pennsylvania ogni giorno da casa per lavorare come operatori a Wall Street, sprecando energia per qualcosa che non significa nulla, che anzi spreca persino elettricità ed energie. Quando inizi a pensare così, quando inizi a capire quante energie e risorse vengono sprecate per azioni che non producono nulla, tranne i valori monetari egoistici e consumistici di particolari individui, che non rendono nulla alla società. Pensa quanto bella sarebbe la società se iniziassimo a educare le persone sui processi naturali dell'ambiente, sulla scienza, sulla tecnologia, sulla conservazione delle risorse. E quando la gente sarà in grado di valutare correttamente la società, lavorerà su cose realmente importanti. Sarebbe cataclismico. Sarebbe incredibile vedere persone fare cose che hanno una vera rilevanza, che gli daranno anche la possibilità di essere più liberi. Per metterla in un senso pratico, il mio modo di vedere la sopravvivenza umana e l'egoismo umano che esiste, ma è anche accelerato dal nostro sistema, consiste nell'adottare un trucco psicologico. L'interesse sociale deve diventare il proprio interesse. In altre parole, quando invento qualcosa, viene resa disponibile a tutti e chiunque la può migliorare e utilizzare. Questa invenzione non viene vincolata da brevetti e marchi. Viene data a tutti. Ogni volte che qualcuno inventa qualcosa o ha un'idea, questa viene data o trasmessa anche a me. Improvvisamente l'umanità diventa un organismo unico, diventa un sistema funzionante. La gente mi chiede molto della spiritualità. Dicono, beh, se non ti piace nessuna religione affermata, sei spirituale in qualche altra maniera o qualcosa del genere. L'unico tipo di spiritualità che è realmente rilevante è la comprensione dei processi naturali e l'ordine naturale dell'universo, per dargli una definizione brutale. È nel modo in cui funzionano le leggi naturali, la gravità, il modo in cui il mondo funziona. Dio è nelle leggi della natura e basta. Io credo che un vero risveglio spirituale avverrà quando le persone inizieranno a capire che devono iniziare a lavorare insieme, che devono condividere le loro risorse. Devono iniziare a capire che vivono tutte su questo pianeta, che ottengono luce dal sole, che ci sono fonti di energia che sono naturali e abbondanti, che possono essere rese disponibili a tutti, che condividiamo tutto e che lavoriamo insieme, perché questo è richiesto dal sistema. La Terra lo richiede. La specie lo richiede per la sua sopravvivenza. E questo sarà un risveglio spirituale, se vuoi definirlo con questo termine. Viviamo in un mondo di immense possibilità, possibilità positive. Comunque tutti gli indicatori puntano a quello che io considero l'autodistruzione. Fermo restando la nostra attuale struttura economica e ideologica. Ancora una volta, capitalismo, socialismo, comunismo, fascismo, i sistemi di credo giudaico, islamico, cristiano, non hanno alcuna relazione con quello che in realtà consente la sopravvivenza della specie. La cosa davvero triste è che l'umanità sarà colpita abbastanza duramente, prima che capisca realmente di cosa ha lo Zeitgeist Movement, l'economia basata sulle risorse, e il Venus Project di Jacques Fresco parlano. Siamo guidati da pressioni biosociali, nel senso che abbiamo bisogno di problemi per svegliarci e volere cambiare le cose. Non voglio vedere soffrire l'umanità. Non voglio vedere la popolazione iniziare a ridursi per via della carenza di energia e di cibo. Non voglio vedere accadere queste cose. Ma so tristemente che in buona parte questo succederà, finché la gente non inizierà a svegliarsi e capirà il nuovo paradigma che sta all'orizzonte, che dobbiamo promuovere rapidamente quanto sia umanamente possibile. Tutto ciò che devi guardare è l'attuale implosione economica. Il governo americano ha 12.000 miliardi di debito. Diventa grottesco un po'. Cosa succederà quando il governo americano raggiungerà i 20.000 miliardi, i 30.000 miliardi? Voglio dire, una volta che il governo americano non può pagare gli interessi di tutti i titoli che ha venduto oltremare e tutti i debiti che ha contratto, teoricamente, sarà in bancarotta. Cosa pensi che succederà quando la Cina non potrà avere i soldi dagli Stati Uniti? Cosa pensi che succederà quando gli Stati Uniti, dal momento che usano il 25% dell'energia mondiale, inizieranno ad esaurire il petrolio in Iraq e inizieranno ad invadere altri paesi medio orientali. Cosa che probabilmente farà in anticipo, ma inizierà a farlo. E la Cina, sicuro che prende il petrolio dall'Iran, dice, sai cosa? Penso che vi dovremmo fermare dal prendere il petrolio dall'Iran, perché anche noi ne abbiamo bisogno. E voi ci dovete un sacco di soldi. Ci state un po' infastidendo. Pensa che la guerra tra queste superpotenze sia possibile? Io penso che la terza guerra mondiale sia molto, molto possibile. E questa guerra sarà sul serio. Non sarà una guerra artificiosa, come la prima o la seconda, basata sui riallineamenti geopolitici e vari appropriamenti di risorse. Questa guerra sarà per la sopravvivenza di diversi paesi. E spero che questo non succeda. Spero sinceramente che tutte queste cose di cui parlo siano erronee e fallaci. Tutto ciò che devi fare è osservare le tendenze. In un modo o nell'altro finiremo in un sistema che non è basato sul denaro come lo conosciamo. Perché questo sarà inquadrato nel futuro dagli storici come la completa e principale causa di distruzione della civiltà così come la conosciamo. Questo sarà capito in futuro. Gli storici riguarderanno i nostri giorni e diranno, santa merda, stavano facendo materiali, vendendoli per il profitto delle corporazioni ancora e ancora e ancora, senza alcun riferimento al pianeta e ai protocolli di riciclo e tutto il resto. Bruciavano combustibili fossili a milioni di volte al ritmo della loro reale rinnovabilità. Rideranno di noi, chiedendosi che diavolo di specie idiota fossimo, se almeno sopravviveremo fino a raggiungere questo punto. Quindi, odio fare il guastafeste e il negativo. Odio buttare fuori tutta questa retorica, ma sono troppo irritato a questo punto per non farlo. Vorrei solo fare capire che l'intero sistema in cui viviamo è una mistificazione. È un sistema falso, la cui falsità è definita dal fatto che non può essere sostenuto. È così semplice. E noi proponiamo un'economia basata sulle risorse. Spero che chi guarda questo film vada su zeitgeistitalia.org e su thezeitgeistmovement.com e guardi quello che facciamo. Spero che tutti quanti capiscono che possiamo solo cambiare o morire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.